Ritorniamo in diretta sulle frequenze di RBA Radio Bequite Evangelica. Intanto non vi avevo ancora dato i contatti. Diretta chiocciolarbe.it per le vostre mail oppure numero per sms whatsapp il tre due otto otto sette cinque sette otto quattro cinque. Se volete scriverci, se volete contattarci e chiacchierare con la nostra redazione o segnalarci eventuali eventi appuntamenti. E proprio di appuntamenti parliamo come vi ho accennato prima eh un appuntamento che si inserisce come dicevamo eh nell'arco delle iniziative previste per gli ottocentocinquant anni eh dall'inizio del movimento della Chiesa Valdese e tra i tanti eventi organizzati e eh creati proprio in questo duemilaventiquattro c'è eh l'inaugurazione della mostra, la mostra Val dei Valdesi tra storia e mito eh una mostra che inaugura il dieci di febbraio alle ore sedici nel pomeriggio e proseguirà poi fino al prossimo autunno. Mostra curata dai nostri ospiti ovvero Marco Fratini e Samuele Turboncur che sono qua con me e a cui do il bentornato perché entrambi insomma frequentemente vengono nei nostri studi. Ciao Samuele, ciao Marco. Ciao. Allora una mostra che si è costruita immagino ehm nell'arco di questi mesi penso che ci sia stato un bel lavorone dietro e vorrei chiedervi insomma un po' come nasce eh l'idea di eh dedicare un'esposizione appunto a Valdo e anche con quali criteri e con quali quale percorso vi siete immaginati. Questa mostra stiamo lavorando da quasi un anno direi all'incirca perché appunto ha richiesto un lavoro di ricerca e tutto sommato è opportuno che una mostra non riproponga il già già conosciuto e già detto e soprattutto diciamo in occasione di questo ottocentocinquantenario era necessario proporre qualcosa che ci sembrava un po' originale. Allora questo punto di vista originale ehm tende a mostrare ai visitatori anche quello che uno non si aspetta attraverso un un arco di tempo molto lungo partendo da Valdo sì naturalmente perché quello è la celebrazione del centenario ma andando oltre cioè mostrando la storia un po' come dire dai retroscena. Dietro le quinte. la storia e il mito sono sono due aspetti completamente opposti perché naturalmente sempre bisogna distinguere cosa è mito cosa non è il mito non è una cosa falsa è soltanto una costruzione ed è proprio alla costruzione della storia valdese o meglio delle costruzione delle origini valdesi attraverso una pluralità di voci valdesi cattolichi protestanti che questa mostra vuole mostrare dopo Valdo cosa si è pensato delle origini valdesi e su questo insiste un po' tutta la mostra. Sì esatto è una mostra che esposta sarà inizialmente esposta nei locali attivi al museo valdese ma non è una riproposizione in breve della storia valdese quindi degli 850 anni di storia valdese come ci siamo detti io e Marco se il museo risponde alla domanda cosa sappiamo oggi su la mostra è come siamo venuti a sapere che ci permette di indagare su come il museo parte dando per scontato che la storia valdese abbia avuto inizio con Valdo di Rione 850 anni fa mentre invece indagando ed è quello che la mostra esporrà al pubblico si scopre come i valdesi fino a poco più di un secolo fa se a un valdese si fosse chiesto quando avete avuto origine non avrebbe in molti casi risposto 800 anni fa o non avrebbe risposto abbiamo avuto origine da Valdo di Rione quindi è anche un lavoro di ricerca dell'identità potremmo dire della storia valdese una figura di Valdo di Rione che appunto come come ci dicevano Marco e Samuele in alcune situazioni in alcuni casi non è stata riconosciuta e si è un po' persa nei secoli anzi forse volutamente anche e non non a caso ma io mi chiedevo la per cercare insomma i materiali documenti che che saranno esposti che tra l'altro avete già anche pubblicato in questo questa brochure in questo libretto che accompagnerà appunto la visione della mostra come come avete fatto dove avevate già una base immagino al museo valdese poi dove vi siete recati in giro per il mondo. Inizi tu? Ecco no è una una domanda pertinente anche perché come potete immaginare in realtà chi ha visto il museo valdese già questo lo sa chi non l'ha visto lo vedrà vedendo il museo e la mostra la storia il patrimonio riguardante le origini dei valdesi è nullo quindi non esiste nulla da poter ma non esistono oggetti e quindi una mostra che soprattutto nella nella sua fase iniziale quindi il racconto su valdo di lione deve basarsi su un altro tipo di dispositivo un altro tipo di racconto quindi non partendo da da degli oggetti che non esistono ma partendo da delle fonti e quindi partendo da cosa si è cosa è stato tramandato e quindi basandosi su quelle che sono le fonti contemporanee a valdo di lione visto che stai facendo vedere l'immagine per chi per chi può vederla appunto anche di di valdo non sono resistiti non esistono c'era la fotografia ma non c'erano neanche dipinti non esistono non esistono ritratti di valdo non esistono immagini fino alla seconda metà dell'ottocento quando poi fu riprodotto sul monumento lutero a vorbs nel 1868 la prima volta in cui un artista fece un ritratto di fantasia a cui poi si sono ispirati tutti in seguito è quello che ci avete portato e che chi sta guardando in video anche sullo streaming o sullo streaming insomma del nostro sito rbe.it sta vedendo sì che mi permette anche di dire poi lascio la parola a marco su su quello che invece il patrimonio esposto in mostra che invece c'è una curiosità rispetto a questa questa immagine che sarà esposta in mostra questa è un'immagine diffusa anche in ambito valdese fin da dagli anni settanta dell'ottocento nella nella ricerca nel fare le ricerche sulla mostra abbiamo scoperto che l'autore non si sapeva che l'autore di questa immagine quindi che si rifà fece un'incisione basandosi sul ritratto del monumento di vorbs e niente meno che edward wimper famosissimo alpinista nonché primo scalatore a salire la vetta del cervino il quale fece anche altri ritratti di ambito valdese anche due vedute delle valli questa è una cosa appunto che non si sapeva e non si sapeva che questa prima incisione di valdo che poi è stata diffusa anche alle valli valdesi e opera appunto di wimper come si può vedere nella firma in basso in basso a destra e la seconda sezione dopo la prima che parla prevalentemente di valdo attraverso le testimonianze di contemporanei invece parla di dopo valdo cioè chi parlò chi fece commenti chi ipotizzò l'origine valdesi da valdo o da qualche altra diciamo in un altro periodo o precedente o diverso o con dati diversi o anche chiamò diversamente questo personaggio è un dibattito che passò attraverso la pubblicistica cioè attraverso libri pubblicati da principalmente teologi uomini di chiesa nel corso di 700 anni circa partendo dai manuscritti un po di più quindi siamo a 850 anni e che animò questo dibattito europeo che in cui si possono contare centinaia e centinaia di autori che parlano dei valdesi e all'interno di questi moltissimi parlarono proprio delle origini valdesi e questo dibattito noi lo mostriamo attraverso una serie di anche attraverso una serie di libri a stampa antiche e moderni che fanno parte del patrimonio della biblioteca della fondazione centro culturale valdese e quella della società di studi valdesi oltre a immagini che abbiamo reperito altrove in altri musei e biblioteche del mondo insomma insomma si è creata una rete anche in questo caso come sempre avviene poi ovviamente per le esposizioni è ovvio che si parte magari da una una base presente nell'archivio e poi bisogna ampliarla questa questa base e quindi però avete avete steso la ricerca anche oltre confine anche perché ancora una volta ci viene ribadito il fatto che i valdesi e l'europa hanno una connessione molto stretta e anzi più radicata di quello che che già ci immaginavamo ecco questa è l'ulteriore conferma certo e non solo talvolta anche quella che è stata la storia tramandata in altre altre aree soprattutto europee pensiamo ad esempio all'ambito britannico sono proprio gli autori che poi hanno di riflesso poi anche come dire condizionato quella che era l'autorappresentazione dei valdesi stessi quindi nell'ottocento proprio anche grazie a quello che scrissero i viaggiatori inglesi che si recarono alle valli alla ricerca dei valdesi primitivi di quelli che loro come dire scrivevano essere antecedenti di valdo anche di mille anni ebbene quello che scrissero i viaggiatori inglesi si impose al punto che i valdesi stessi riportarono quella versione in modo assolutamente prevalente per tutto l'ottocento ecco beh è curiosa questa questa storia appunto che che sta alla base dell'origine della chiesa valdese e che però appunto ci ci fa capire anche le relazioni internazionali la cultura e il rapporto tra cultura e politica insomma i vari momenti storici che poi appunto sono parecchi perché ottocentocinquant'anni otto secoli e mezzo di storia ne è passata una curiosità che vi ha colpito in modo particolare Marco e Samuele sono state sicuramente tante nel senso che molte delle testimonianze che abbiamo trovato in realtà non ce le aspettavamo in tanti casi alcune testimonianze sono volutamente ambigue perché dire deriva da valdo deriva da secoli precedenti diciamo in un'epoca in cui magari non si avevano le prove documentarie non si conoscevano i manoscritti che noi conosciamo oggi non avevano il metodo scientifico di utilizzo di lettura di questi testi che abbiamo oggi in realtà ovviamente che metteva anche in difficoltà no soprattutto in relazione quello che dicevi tu prima cioè al fatto che gli equivoci non nascono solo dal fatto di non conoscere ma da una volontà di piegare la quella che si oggi chiamiamo reale realtà storica ma perché però era il racconto storico alle proprie esigenze personali di un dibattito in cui dovevano dimostrare all'avversario e quindi questo questa mostra racconta un oltre che internazionale racconta una storia plurale cioè tutti contribuirono sia i valdesi sia i protestanti sia gli avversari alla costruzione di un'identità valde di antità storica valdese e quindi in molti casi è una sono scelte assolutamente volute e quindi crearono che si ispiravano ai precedenti che discutono con i contemporanei e quindi questo dibattito abbiamo cercato di ricostruirlo come attraverso anche i volti i nomi no delle persone che vi parteciparono da un po di tutte parti del mondo certo e mi aggancio ancora visto sempre l'immagine che chi guarda in tv può vedere sotto l'immagine vedete scritto pietro valdo chi si recherà vedere la mostra a torre pellice dove c'è anche una pv a pietro valdo arriverà arriverà presso la nostra sede percorrendo via pietro valdo ebbene essendo che non si è non si è sicuri di quello che era il nome di valdo neanche adesso ci sono stati ampi dibattiti quello che è certo che il nome pietro gli è stato aggiunto ad esempio vedendo la mostra si capirà non solo quando il nome è stato aggiunto ma anche perché è stato aggiunto bello molto interessante molto interessante questi questi aspetti che in effetti se non con un'esposizione una mostra difficilmente poi si verrebbero a conoscere la mostra abbiamo detto rimarrà aperta fino al prossimo settembre avete in previsione dei momenti particolari delle visite guidate del delle aperture straordinarie si saranno comunicate sempre sul sul sito fondazione valdese.org nella pagina appositamente dedicata all'ottocento cinquantesimo del movimento valdese sono previste una serie di visite guidate già a partire dai primi mesi ci saranno poi non abbiamo ancora le date certe ma ci saranno poi due conferenze dedicate ai temi della mostra quindi una prima in primavera dedicata alla prima sezione della mostra e quindi ai valdesi medievali e in particolare a valdo di lione e una seconda sul finire della mossa sulla seconda sezione della mostra e quindi sulla costruzione della storia valdese e delle origini valdesi e poi naturalmente dicendo che questa è una storia plurale che va condivisa anche con gli altri con quelli che hanno contribuito in Europa e altrove anche negli stati uniti a questo dibattito senza i quali forse i valdesi non ci non si ricorderebbero neanche oggi o non ci sarebbero oggi visti gli aiuti che hanno dato nel corso dei secoli ecco l'idea è quella di riportare restituire anche a loro attraverso un esposizio un altro allestimento in altre sedi in Italia e in Europa e non solo nel 2024 ma per motivi logistici anche almeno nel 2025 in altre località in altre musee e biblioteche. Bene quindi non possiamo che a sto punto invitare gli ascoltatori e le ascoltatrici a partecipare a chi vorrà all'inaugurazione ufficiale che sarà domenica eh dieci sabato scusa sabato dieci di febbraio nel pomeriggio e poi da lì in avanti insomma seguendo gli orari di apertura del del museo valdese visitare questa questa mostra avete anche a disposizione questo libro appunto questo accompagnamento eh alla mostra la una guida valdo i valdesi tra storie mito e poi insomma lasciatevi condurre condurre dalla vostra curiosità e dalla dalla voglia di scoprire. Grazie a Marco Fratini grazie a Samuele Turboncoeur curatori appunto di questa mostra buon lavoro a voi ovviamente all'intera fondazione valdese per questo anno che sarà bello ricco di iniziative. Grazie a voi per questa occasione. Grazie Daniele e grazie a tutti voi.